Cantù torna al Paladesio per ritrovare il cammino vincente, smarrito nell'ultima trasferta ad Agrigento. Dopo una serie di buone prestazioni, lo scorso fine settimana una prova da dimenticare e una sconfitta nella gara in Sicilia. Alla vigilia del nono turno la squadra di basket Brianzoli al secondo posto, alle spalle di Trapani e alla pari con Torino. Per la formazione di coach Davies Cagnardi in arrivo un avversario tutt'altro che abbordabile. Domani alle 18 la sfida sarà infatti contro Rieti, formazione che è una vittoria in meno rispetto ai padroni di casa. Cantù che dovrà rinunciare contro Rieti per un lungo periodo al suo capitano Filippo Baldirossi, bloccato da un infortunio. In campo, per forza di cose, anche una serie di atleti cresciuti nel vivaio, ai quali l'allenatore chiede un importante supporto. Compito dei Brianzoli sarà in ogni caso capitalizzare al meglio le due partite interne. Dopo Rieti infatti ad Eseo è atteso la settimana successiva il casale Monferrato.